Se ascolti con attenzione, il passato ti sussurra. Siamo qui per Albus Silente. Sarebbe mio fratello. Il mondo com'è si sta disfacendo. Grindelwald lo sta dilaniando con l'odio. Se vogliamo sconfiggerlo, dovrai fidarti di me. Questa è la squadra che abbatterà il mago più pericoloso da oltre un secolo. Un magizoologo, la sua indispensabile assistente. Un mago discendente da un'antica famiglia, una professoressa. E... Un babbano. Silente ha chiesto di darti una cosa, Jacob. Hai voglia di scherzare? Stiamo messi alla grande. Si va a salvare il mondo, quindi? Le cose non sempre sono come appaiono. Tu scivola, ma... delicatamente. Io scivolo timido. La nostra guerra ai bambani! Provincia! Oggi! Cos'è questo posto? È la stanza di cui necessitiamo. Corretto. Tre punti per tasso russo. Passo? È pericolosa. È molto potente. Se cade nelle mani sbagliate... È un bel guaio. Dove l'hai presa? Regalo di Natale. 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 Regalo di Natale.